115 milioni e 800 mila euro per finanziare il progetto riguardante i collegamenti autostradali dell'autoporto di Vittoria all'aeroporto di Comiso, alla Ragusa Catania e la statale 115. Se si aggiunge che con i fondi ex insicem la provincia di Ragusa sta procedendo a bandire la gara d'appalto per la bretella di collegamento dell'aeroporto di Comiso, ecco che nel giro di qualche anno l'infrastrutturazione del territorio provinciale cambierà completamente faccia. La comunicazione dell'assessore regionale alla mobilità e alle infrastrutture Antonino Bartolotta al commissario straordinario della provincia Carmela Floreno è la conferma di un finanziamento in itinere che ha trovato corrispondenza nella convenzione stipulata tra la regione siciliana e il ministero delle infrastrutture, avente a oggetto il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il finanziamento dei collegamenti tra l'autoporto di Vittoria, l'aeroporto di Comiso, la statale 514 Ragusa Catania e la statale 115 è stato possibile perché la provincia aveva a disposizione un progetto definitivo già approvato, il cui impegno finanziario era stato assunto con i fondi ex insicem che si stanno rivelando sempre più risorse moltiplicatrici per altri interventi. Ora la provincia ha il compito di definire in tempi brevi il progetto esecutivo di tutti i collegamenti per poter procedere alla fase attuativa che nella prima fase funzionale prevede un impegno finanziario di 47 milioni 36 mila euro e nella seconda fase di completamento un impegno di 68 milioni 763 mila euro. È invece già esecutivo il progetto per la bretella di collegamento tra la statale 514 Ragusa Catania e l'aeroporto di Comiso, approvato in conferenza di servizio a Palermo lo scorso anno e con la provincia di Ragusa che entro il mese di giugno indirà la gara d'appalto che verrà espletata dall'Urega.